grande serata al Dallara per festeggiare i 110 anni del Bologna da Baggio a Signori passando per Roberto Carlos, Sedorf e Carambe, parata di campioni ed ex nel segno del grande calcio commozione anche per il messaggio di Mihailovic, Colomba è entrato di diritto nelle leggende del Bologna. L'unica squadra che mi poteva convincere era la Juve, Gigi Buffon analizza la scelta di tornare in bianco nero tra speranze ed obiettivi, la stagione è iniziata alla grande e Sarri è una persona con le idee chiare, poi complimento all'Inter e senza dubbio la rivale numero uno. La Fiorentina si gode il momento positivo con una rosa piena di esperienza e gioventù, riberie tra i migliori acquisti estivi della Serie A, mentre Castrovilli continua a stupire. Il rinnovo di contratto del centrocampista con i Viola adesso è anche ufficiale. Buonasera, buonasera e ben ritrovati con una nuova ricchissima edizione del TMB News, come detto ricca di contributi, di tanti video, di tante interviste esclusive a partire dalla grande serata che ha contraddistinto il Dallara per festeggiare i 110 anni di storia del Bologna, una parata di stelle, avete sentito nei titoli tantissimi campioni, ex Rosso-Blu ma anche ex Real Madrid, visto che è nata in scena proprio la gara tra le Legends del Bologna e della squadra madrilena. Mio compagno di viaggio quest'oggi, Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo, ben trovato. Ciao Tommaso, buonasera. Allora, se sei d'accordo, poi parleremo più tardi anche di Buffon con delle parole importanti sul campionato, anche di quello che sta succedendo in casa ferritina. Se sei d'accordo andiamo a vederci subito. Il primo contributo realizzato dai nostri inviati a Bologna, Giacomo Iacobellis e Lorenzo Marucci in questo caso, con uno dei tanti ex che hanno contraddistinto e che erano presenti alla serata. Partiamo con Thomas Locatelli, proprio un ex Rosso-Blu. Vediamo. Thomas Locatelli, le emozioni di calcare di nuovo il Dallara? Devastanti. Sono tornati in mente cinque anni passati qua, nella quale sono rabbrividito all'ingresso in campo e poi è stata una festa meravigliosa. Abbiamo rivissuto insieme a tutti i ragazzi che comunque sì, abbiamo fatto, non dico la storia del Bologna, ma qualcosa di importante l'abbiamo fatto. Il Bologna di oggi ti piace? Il Bologna di oggi mi piace, mi piace soprattutto la società che è sana e che ha voglia di puntare a traguardi molto, molto importanti. Il giocatore che ti emoziona di più di questo Bologna? Ma guarda, ce ne sono parecchi di giocatori e io penso che oggi come oggi sia proprio il gruppo la forza di questo Bologna. Non vedo un giocatore eccellere su un altro, ma vedo questo gruppo che può darci molte soddisfazioni. Tanti giovani nel Bologna che si stanno comportando bene, anche tanti giocatori di esperienza, Medel. Ad esempio, Raimondo De Magistris, lo diamo un giudizio al lavoro del Bologna svolto in queste prime giornate di campionato, direi promosso, a pieni voti. Promosso senza dubbio, soprattutto dalla scintola in su. Questa è una squadra che diverte, che magari subisce qualche gol di troppo, però dà sempre grosse soddisfazioni ai suoi tifosi. Il reparto avanzato, secondo me, è davvero uno dei più interessanti della Serie A ed è un paradosso dirlo lì dove poi c'è un centravanti come Rodrigo Palacio, che è un centravanti che solo nell'ultimo turno di campionato ha trovato il suo primo gol al Dallara con la maglia del Bologna. Ed è lui il titolare, nonostante Santander, nonostante Mattia Destro. Però alle sue spalle ci sono giocatori di livello assoluto, Soriano, Sansone, Riccardo Orsoleni, che è partito subito fortissimo da trascinatore di questo Bologna. E poi Scovolsen, alle loro spalle, un giovane che sta iniziando a mettere in luce le sue qualità. Se ne è parlato tutte le state un gran bene ed è un giocatore tecnicamente superiore alla media. Mi sta impressionando, mi ha impressionato molto, nell'ultima gara anche Svanberg, che da quando era arrivato Mijelovic in panchina aveva sempre trovato poco spazio. Con l'allenatore serbo, poi è stato rilanciato anche per necessità nella mischia nelle ultime apparizioni e forse nell'ultima gara è stato addirittura il migliore in campo. È un Bologna che diverte i suoi tifosi. Nell'era Donadoni abbiamo spesso ribadito e parlato di un Bologna apatico, che non riusciva più a suscitare delle emozioni e invece questo Bologna ha cambiato registro, frutto anche di una situazione purtroppo molto, molto particolare. Eh sì, l'hai citato in precedenza, a Sinisa Mijelovic c'è tanta commozione al dallare in occasione del video messaggio del tecnico serbo che è stato proiettato proprio sui maxi schermi dello stadio prima dell'inizio della gara tra Bologna e Real Madrid Legends. Un Mijelovic che incarna anche un po' l'anima di questo Bologna, un Mijelovic che l'anno scorso ha fatto quasi cose straordinarie, considerando anche il livello della Rosa. Chi vive, chi ha vissuto per tantissimi anni, chi ha legato una carriera, possiamo dirlo proprio a questi colori, è Franco Colomba che nell'immediato post-gara di ieri sera, sempre dal dallare, sempre ai microfoni dei nostri inviati, ha parlato così di Sinisa Mijelovic. Sentiamo. Franco Colomba ha allenato tante squadre, ma stasera che emozione è stata a guidare la squadra dell'Elegente del Bologna? Devo dire, quando ci passi 18 anni della tua carriera col Bologna, da tifosi del Bologna credo che sia, e da giocatore e da allenatore, che sia stata un'emozione importante. È logico che affrontavamo una squadra forte e abbiamo lottato, abbiamo fatto anche una buona figura e questo è quello che mi rende contento. C'è stata la parentesi iniziale di Sinisa Mijelovic che veramente, come ho già detto ai vostri colleghi, è entrato di diritto nelle leggende del Bologna perché non tanto per quest'anno che ha un problema serio e difficile, ma per quello che ha fatto l'anno scorso, si è veramente elevato rispetto alla media ed è stata un'emozione incredibile vederlo parlare, sentirlo parlare e incoraggiare lui, la squadra, la sua e la nostra di stasera. Queste prime giornate di campionato per il Bologna cosa hanno detto? Hanno detto che è una squadra che fa un buon calcio. Una squadra che fa buon calcio anche grazie ai suoi interpreti. Chi ha giocato nel Bologna? Andiamo a sentire anche altri contributi. Gabi Mudingai, sentite le sue parole proprio sulla squadra rosso-blu. Gabi Mudingai è sempre acclamato dal popolo rosso-blu. Guarda, è stata veramente una cosa bellissima. Vuol dire che quello che l'Iennico ha fatto qui a Bologna sono stati anni apprezzati dal tifoso perché il tifoso del Bologna è un tifoso molto caloroso, un tifoso che riconosce quello che fa il giocatore in campo e avere un'ovazione così è stata veramente una cosa incredibile. Il Bologna di oggi ti rivede in qualche giocatore particolare? Il Bologna di oggi? Senti, c'è Medel in campo che ogni volta che lo vedo giocare è un giocatore grintoso, un giocatore che non muolla mai. È un po' quello che ero io. Quindi sì, Medel. Che percorso può fare il Bologna secondo te? Che percorso? Io guarda, ho visto giocare il Bologna, il Bologna sta giocando veramente bene e c'è dei giocatori molto interessanti, quindi io credo che il Bologna, la salvezza sarà una cosa per me facile e poi dopo bisogna vedere gli obiettivi che si è messo la Siosetama, però io credo che è una squadra con margine di migliorazione, è una squadra in gamba, è una squadra forte. Dai grandi campioni del Dall'Ara a un grande campione intramontabile che gioca tuttora, Gigi Buffon. Sentite, vediamo come commenta il suo bilancio personale dal momento del suo ritorno alla Juventus quest'estate e in queste prime giornate di campionato. Vediamo. Mi sta andando molto bene, sono molto felice, devo dire la verità, perché giustamente all'inizio nutrivo qualche perplessità e qualche dubbio sulla mia accettazione di questo nuovo ruolo, però con molta tranquillità e parlandone anche a casa e così, ho detto che secondo me l'unica squadra che può farmi accettare questa cosa in maniera serena e propositiva è la Juve. Il mister è una persona che ha le idee molto chiare e sono chiare perché ha un percorso d'allenatore che è trentennale quasi, per cui io credo che in 30 anni di calcio, di battute d'arresto, di delusioni, di grandi gioie, io penso che uno che negli ultimi anni ha toccato secondo me la punta massima, la sua espressione massima come allenatore, quindi approdando poi la Juve secondo me abbia un sacco di convinzioni che riesce a trasferire la squadra e così diciamo sta avvenendo anche perché c'è la predisposizione secondo me da parte del gruppo di voler apprendere un qualcosa di diverso rispetto a questi dieci anni perché poi tutti parlano solo di Allegri però c'è stato anche Conte con tre anni e prima ancora ce ne sono stati altri e credo questo modo di giocare questo calcio è una filosofia che non avevamo mai conosciuto e che ci piace perché al di là di tutto io penso che i grandi giocatori abbiano bisogno sempre di stimoli e tener vivi quelli, una volta fatto quello secondo me poi le prestazioni e i risultati arrivano di conseguenza. Raimondo De Magistris abbiamo titolato scommessa vinta, guardando e sentendo anche le parole di Buffon si percepisce anche la convinzione dello stesso giocatore che ha detto ho fatto la scelta giusta quella di tornare alla Juventus. Sì è una scelta che sta permettendo anche a Buffon di giocare perché di fatto è vero è arrivato come numero 12 il titolare è Cesni in questa Juventus però Sarri gli sta concedendo le sue occasioni, un discorso che tra virgolette è un po' rovesciato rispetto a quello di un anno fa quando a Parigi partì da titolare da numero uno andò a Parigi per giocarsi le sue chance tra i pali del Paris Saint Germain poi pian piano diventò sempre più una riserva di quella squadra con Tuchel che prima lo schierava solo in Champions poi con l'uscita di Parigi dalla Champions in campionato giocava sempre meno. Quest'anno Buffon ha subito chiarito la sua posizione però nonostante ciò Sarri sta concedendo le sue opportunità a Buffon, sa di avere un ruolo ben definito, sa secondo me anche che tornando alla Juventus si garantisce anche un futuro fuori dal campo quindi un futuro da dirigente e poi sempre quella piccola ossessione chiamata Champions forse questo è l'ultimo anno chissà vedremo anche perché in questo senso Buffon non ha chiuso le porte a un proseguire ulteriormente la carriera oltre questa stagione. Vedremo cosa farà in Champions intanto è lotta aperta in campionato, la Juventus ha vinto lo scontro diretto contro l'Inter e secondo Buffon Buffon non ha dubbi, è l'Inter la rivale numero uno? Sentiamo le sue parole. E poi stanno arrivando anche i risultati, avete fatto un risultato importante con l'Inter, una partita decisiva, l'hai definita la rivale della Juventus in questo campionato. Certo, sì sì, definisco senza il minimo dubbio la rivale numero uno perché conosco benissimo l'allenatore, conosco benissimo il modo di insegnare calcio, di ragionare e di trasmettere convinzione e voglia di stupire che ha e conosco benissimo il direttore e anche moltissimi giocatori di loro che sono giocatori di primo livello. Quindi Inter rivale numero uno per quanto riguarda il campionato secondo Buffon, sentiamo anche altri pareri proprio su questo duello a distanza, riascoltiamo anche Franco Colomba proprio sul duello Juve-Inter. Ultima considerazione sul Napoli che sembra essere entrato in difficoltà, che cosa pensa al riguardo? Il Napoli è una squadra che in questi anni ha regalato molto al calcio italiano, ora ci può stare che in un momento di partite infrasettimanali ci possa essere una partita in calo, ed è avendo giocatori scattisti, scattanti, un piccolo calo basta per far calare il rendimento. Non c'è un problema del gol? Secondo me no, secondo me no, anche perché il Llorente è un ottimo acquisto, intelligente, fa giocare, fa fare i gol anche agli altri, di testa è fortissimo. Io credo che avere intorno a lui dei giocatori scattanti e rapidi può essere solo un vantaggio. Ripeto, l'appannamento con le tre partite ci può stare. Era presente al Dallara anche Michele Paramatti, ex difensore rosso-blu, ma anche della Juventus, sentiamolo, intervistato dal nostro inviato Lorenzo Marucci, ancora proprio sui bianconeri, sull'Inter, vediamo. La Juventus contro l'Inter si è vista la squadra di Sarri? Sta iniziando a vedersi, ci occorre un po' di tempo in tutte le squadre per riuscire a trasmettere ai giocatori, soprattutto ai nuovi e soprattutto se sei un allenatore nuovo, le tue idee. Credo ci siano anche lì tutti gli elementi per ripetere e se non migliorare le prestazioni degli anni passati. Quindi Juventus ancora favorita? Sì, certo. Quest'Inter però quanto è più vicina rispetto agli anni scorsi? Molto più vicina, quindi credo sarà una corsa a tre comunque che darà, credo, interesse maggiore al campionato, visto che negli ultimi anni, per fortuna, per gli Juventini purtroppo non c'è stata tanta competizione. Allora, abbiamo sentito tutto, Raimondo De Magistris, crediamo a Buffon, che ha detto l'Inter è la rivale numero uno, quindi diciamo così, passando il Napoli di Carlo Encelotti, ci crediamo? In questo avvio di stagione l'Inter ha dimostrato di essere la rivale numero uno, almeno per il fatto di essere in classifica, prima in classifica fino a 90 minuti fa, fino allo scontro diretto, dove comunque la Juventus ha dimostrato, ribadito ancora una volta, la sua superiorità. Però questa Inter ha fatto un salto in avanti, un salto di qualità notevole grazie a Marotta, grazie ad Antonio Conte, ma anche grazie a una lungimirante campagna acquisti, perché oggi, ad esempio in redazione, ci interrogavamo su chi fosse il miglior acquisto della Serie A, fino a questo momento quasi tutti erano concordi sul nome di Stefano Sensi, che ha dato tanto al centrocampo nero azzurro, quindi anche in virtù delle difficoltà palesate dal Napoli in questo avvio di stagione, sì, l'Inter sta dimostrando la rivale numero uno. Abbiamo sentito anche prima le parole di Franco Colomba sul Napoli, che ha gettato acqua sul fuoco, ha detto non c'è un problema, ci sta un appannamento, soprattutto quando ci sono tante gare ravvicinate e sicuramente, anche Llorente potrà essere un'arma in più per quanto riguarda la squadra di Ancelotti. Cambiamo squadra, parliamo della Fiorentina, perché delle ultime ore l'annuncio del rinnovo di Gaetano Castrovilli, che Raimondo è uno delle, diciamo così, stelle o sorprese, rivelazioni dell'inizio del campionato, possiamo vedere anche la pagina di tutto Mercato Web, eccolo qua con le parole. Mi piacerebbe diventare una bandiera, cominciamo Raimondo anche a circolare alcune voci di possibili interessamenti, cinque anni di contratto, un bel segnale per la Fiorentina che nel frattempo si coccola anche Ribéry, sono tra le sorprese di questo inizio di stagione. Senza dubbio, Castrovilli è la vera sorpresa, perché se su Ribéry l'unico dubbio era legato alla tenuta atletica di questo giocatore, sulla volontà del francese di mettersi ancora in discussione, in mostra, Castrovilli di fatto viene dalla Serie B, è stato bravissimo in questo senso Montella a credere su di lui fin dall'inizio, perché Castrovilli è stata una piacevole sorpresa già dalle prime gare con la Napoli, con la Juventus, fin da subito tra i migliori in campo. Certo, lui ha aiutato molto l'allenatore, perché Montella l'ha lanciato, ma poi Castrovilli con le sue prestazioni si è meritato il posto e si è meritato questo rinnovo di contratto fino al 2024, l'ennesimo segnale positivo da parte di questa nuova proprietà della Fiorentina. A proposito di Ribéry, chi lo conosce benissimo è il suo connazionale Christian Carambe, che era presente proprio dall'Ara, il nostro Lorenzo Marucci gli ha chiesto anche un commento sul talento francese della Fiorentina. Ti ha stupito Ribéry alla Fiorentina? No, no, perché noi abbiamo voluto anche che veni all'Olympiaco, spero, ha scelto di venire qui con la Fiorentina e sta facendo bene. Ancora fame? Sempre, Franck è un fuori classe e magari può anche essere un giocatore che farà differenza ancora in questo campionato. Tra l'altro, e mi rivolgo a Raimondo De Magistris, anche per quello che riguarda i numeri, parliamo ancora di Franck Ribéry, sta stupendo perché al di là delle giocate, delle prestazioni, anche se non segna, anche se non fa l'assist decisivo, porta a casa sempre ottimi voti e lo dimostra anche la media che ha tenuto fino a questo momento. Possiamo vedere, eccola qua, la grafica di tuttomercatoweb.com, la classifica, la top 10, la top 10 dei migliori giocatori fino a questo momento per quanto riguarda la media a voto. Eccolo qua, lo vedete là al primo posto, Franck Ribéry, a confermare a Raimondo di quanto dicevamo ci si poteva aspettare un impatto buono, però questo è stato un impatto devastante. Sì, anche perché poi è un giocatore che ruba l'occhio, unisce l'utile al dilettevole, quindi siamo naturalmente portati a dargli il mezzo voto in più dopo le grandi giocate. Credo sia una grafica che poi rispecchia in maniera abbastanza fedele quanto accaduto in questo avvio di stagione. Al secondo posto Duvan Zapata si sta confermando ad altissimi livelli e Salvatore Sirigu, secondo me con queste prestazioni sta mettendo in difficoltà anche il commissario tecnico Roberto Mancini. Non è scontato che Donnarumma sarà il titolare al prossimo europeo se Sirigu proseguirà su questa strada. Possiamo vedere ancora, soltanto per un attimo, la grafica o comunque c'erano pochi giocatori della Juventus. Ti aspettavi magari un giocatore della Juventus che, eccolo qua, che spiccasse in maniera più clamorosa. Cosa vuol dire questa assenza di giocatori bianconeri? Vuol dire che dal punto di vista del gioco abbiamo visto la vera Juventus solo a sprazzi, solo in alcune circostanze, penso alla prima ora di gioco contro il Napoli, penso all'ultima gara gestita alla grande contro l'Inter. Poi la Juve squadra che per la quantità di campioni riesce sempre a portare il risultato a casa, però non ci sono giocatori che hanno brillato più di altri. L'hanno fatto Dybala, Higuain, che però non sono sempre stati titolari. Quindi secondo me è dovuto solo a questo motivo qui. Non ci sono stati giocatori che hanno brillato con continuità e non è stata una squadra che finora con continuità ha brillato dal punto di vista del gioco. Grazie Raimondo. Grazie a te. Grazie Raimondo De Magistris. Termino qua questa ricchissima, è proprio il caso di dirlo, edizione delle Tmv News. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie a te.